E tu? Basta Quello Allora lo posizioniamo Abbraccio lato in un vaso Davi 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 guarda mamma guarda vieni fuori è una salamandra che bella è bellissima è bellissima salamandra si viene un cacchio ce non è un geco? no no è una salamandra perché in questo colore provo a disturbarla adesso si infili il massetto non mi chiedo no a farle male volevo che diventasse vero qua scemo ma fermo ma magari non sono tutte così ma mi chiedo detente non mi chiedo sia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.